Passiamo! Bene, allora noi dobbiamo ricopiare i balletti di Fortnite insieme ai miei cugini. Ovviamente supportate il creatore Lorenzo. Lorenzo, non sto qui che è inglese. Partiamo! Ecco, vorrei non supportatelo. Ecco, partiamo con la flossa. Io guardo lo schermo. Guardate lo schermo. Lato. Guardate, fanno! Filati! Ciao! Noi ci sappiamo fare, ragazzi. Noi ci sappiamo fare. Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.